Se questo video raggiunge i 20.000 mi piace e loco vince la sfida, gli pago un biglietto per New York, l'ho detto. Bulloni, oggi su Minecraft nuova gara di scavo, ma abbiamo un'incognita che non sapremo. Gara di scavo? 15 minuti per uno scontro finale nell'arena? Ma scoprirete una piccola sorpresa. La piccola sorpresa, ragazzi, la scopriremo perché Zanna ci ha preparato questo piccolo video e mi ha detto, gara di scavo, molto carina, ma scoprirete qualcosa di molto interessante andando in caverna. Ora, prendetevi tutte le vostre cose. Avete già preso tutto. Allora, Alexa, imposto un timer di 15 minuti. Oh, yes! Ma che è già partito? C'è qualche seconda in più, poverino, dai. Non sono capace. Allora, io vi dico solo una cosa, preparatevi per bene, ok? Dobbiamo prepararci per bene. Quindi io prenderò ferro, prenderò diamante. Io penso che vado direttamente a... Sono nella lava. Aiuto. Non c'è... Ma il secchio d'acqua non c'è... Io non ho il secchio d'acqua. Eh, te lo butto io, mi sa. Te lo butto io. Perché mi hai rubato il secchio d'acqua? Eh, ne ho due io. Burloni, questo venerdì 1 ottobre mi trovate al Padiglione 8 al Romics di Roma insieme a Loco, a Marco e anche a Buddy. Mi raccomando, non mancate. In descrizione trovate anche un canale Telegram dove vedrò delle news su quello che farò e quando arriverò. mi raccomando, vi aspetto. Sarà una bellissima occasione per incontrarci. Sono a livello 9, ragazzi, eh. Sono a livello 9 e porca paletta non ho paura di utilizzare il livello 9 perché il livello 9 è il livello dei diamanti. Guardate. No, non è vero, è il 12. È il 11. Ragazzi, al 9 si trova di più. Fidatevi di... Vi fidate di me, eh. Va, oddio, guarda. Non lo so, eh. Ragazzi, se lo trovo, entro... Lo sai dove si trovano di più? Dove? In creativa. E che secondo me se riesci a trovarti l'ossidianella, carina carina caruccia, e ti vai a fare un libro... Ma l'ossidianella la faccia un po' di campo. Ci possiamo incontrare, esatto, signor Loco. Unnaggia, però un libro non posso farlo. Come cavolo faccio? Eh, sì. La mucca la trovi, su. Povera e mucca, dai, poverina. La mucca la trovi, su. Giù. Sopra e sotto. Destra e sinistra. Diamanti, a livello 11. Dai, vediamo. Ma questo qua l'ha presa in creativa, è palese. Io farei un controllo, un attimo. Controllo? Raga, controllo? Controllate, controllate, forza, dai. Guarda cosa c'è qua. Ci sono i diamanti. Ma blaggano un pochettino, raga. Non è che c'entra qualcosa con la cosa che ci hanno messo? Ma non è che è colpa tua, per caso, che stai facendo un po' di trattare? Ti giuro, ti giuro che, no, ti giuro che io non c'entro niente. Cioè, stanno laggando, ma non c'entro niente, però trovi di diamanti. Uno, due. Io vorrei dei diamanti. Io ne ho solo tre diamanti, amici. Ho dei diamanti, cosa me ne faccio? Ne ho otto, se vuoi. Ecco me, otto, è giusto. Io non sei, Marci, ne ho sei, tranquillo. Non è giusto, ragazzi. Allora, aspetta un attimo che... No, scusa, ma ne avevo tre di diamanti, perché ne ho due adesso? Ah, vabbè, scatate. Mi avevo lasciato uno lì, ragazzi. Sono stato un po' un cattivo. Ma ne comunque, mi faccio subitissimo l'accetta in diamante. Voi direte, perché l'accetta in diamante? Senti, signora, 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 eh? Ma? Non te ne fai dell'accetta subito? Ma? Che cosa? Eh... Loco. Che è successo? Penso... I mostri sanno cose che noi non sappiamo. Penso di aver capito. Penso di aver capito cosa fa questo... Cos'hai capito, Marci? No, no, Buddy no. Io pure. Buddy no. No, adesso io faccio un'altra cosa. Marci, ho venti diamanti, ti do un po' se me lo dici. Guarda, per me te li puoi tenere pure tutti, perché se riesco a fare quella cosa lì non serva a niente. Io ho fatto dei tuoi diamanti. Adesso è una cosa che non trovi, eh? Dai, dite me lo... Buddy, stai pericando salendo anche tu? Eh, no. No, ma figurati. Perché dovete salire? Sarà un chilo. Voglio un creeper, dov'è un creeper? Datemi un creeper. Cosa fanno i creeper? I creeper esplodono. I creeper esplodono? E quando esplodono, loco, troppano oggetti OP, quindi devi un attimo prepararti. Ma questo non è un video di batti, ragazzi, scusate, eh? È notte fuori, Buddy? È notte? Fuori è notte. Fuori è notte, è normale ad agosto. Ci penso. Non lo so se è normale. Sì, sì, ho trovato quello che... No, ragazzi. E dite cosa stanno facendo. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi. Loco, hai presente... No, no, non glielo... Gelato. No, non glielo devi dire. Su, se glielo dici hai perso. Buono, gelato. Però devo trovare... Devo trovare. Devo trovare quello. Devi trovare. Ma scusate, io faccio l'accetta in ferro, Marci. Perché l'hai fatta in diamante? Perché hai sprecato cose? Perché... Perché ho sbagliato. Infatti, finalmente ho sbagliato. Brutto, cattivone, lagone. Ti ho trovato, eh? Vieni qua. Guarda, sta laggando come lo schifo, ragazzi, sto tizio qua. Però... Ma che anche tu stai cercando Giampiero? Chi è Giampiero? Eh, Giampiero... Mi dite chi è Giampiero, per favore, che serve anche a me. Allora, Loco, se vuoi ti dico che cos'è. Se vuoi ti dico che lo sto facendo. Eh, sì, vorrei saperlo. Perché si fanno due nether. Semplicemente, se tu uccidi un mob, succede qualcosa di molto particolare. Sì, certo, mi trolla questo. Loco, stanno nel nether veramente, vabbè, ma anch'io lo sto facendo comunque, tranquillo, Loco. Ragazzi, ha smesso di laggare. Ragazzi, ha smesso di laggare. Sto colpa di Loco? Ragazzi, ha smesso di laggare. Ha smesso di... Boom! Porca... Boom! Yes! Ma ti devi calmarti, però, un pochino. Ragazzi, ha funzionato la mia tecnica. Ma fatto, qual è la tua tecnica? Eh, come dire... Sì, ora posso concentrarmi sui diamanti. Mettiamola così, porca paletta. Porca paletta. No, c'è un porca diverso. Ok? Pupà, porca pazza. Porca pupazza. Porca pupazza. Pazza. E' ok? Niente. Ok? Niente. Ma vi pare che io trovo il joy di diametista? Eh, magari me lo non ho capito. Oh, mio Dio. Ragazzi, io diamanti non ne trovo manca morì. Cioè, io non so. Trovo i joy di diametista. Trovo quello. Trovo Loco. Loco ancora non ha capito. Se non me lo dite, non è che posso immaginarvelo. Ma non possiamo dirti. Cioè, non te lo possiamo... Loco, usa l'immaginazione. Prova di discutere con i mostri. Allora, se io sono andato, Loco, su, ok? Che cosa posso aver fatto sopra? Perché sono andato sopra? Perché sono andato sopra? Perché gli piace il mondo esterno. Esatto. Batti non penso che abbia capito che cosa ho fatto sopra, porca paletta. No, potrei aver capito. Cioè, nel senso, potrebbe essere... Potresti aver capito. Effettivamente potresti aver capito. Però no, non sei certo al 200x200 di cosa ho fatto. E tu hai fatto una bruttezza. No, però spero che tu non abbia fatto quello, insomma. Ma tu sei nel Nether veramente, Loco? Sto prendendo le... 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 Ce la fa, eh, Marce. Non è un problema. Anche vorraiso dall'acreditiamo un bot in questione. Tu lo sai, bari? Batti non potete farlo. Sto dicendo che non trovi diamanti. Io ho trovato dei diamanti. Uhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuhuuuhuhuuhuhuuhuuhuuhuhuhuuhuuhuhuhuuhuuhuhuhuuhuhuhuhuuuuhuhuuhuuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuuhuuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu Certo, Arci, ho capito cosa fare, però spero non sia uguale. Tecnicamente noi siamo i più grandi del gruppo, no? In teoria i più grandi del gruppo sono quelli che arrivano dopo le cose, perché i ragazzi ci arrivano prima, ok? Siamo anziani, loco, capito? Ma sempre di me d'accordo, fate le vostre cose segrete che io non posso sapere. Ma altri diamanti, guarda che Buddy l'ha scoperto adesso, non è che io ho detto io in privato, oh loco, oh guarda che dobbiamo non dire a loco questa cosa. L'ha scoperto a caso allora, cioè. E' così che si scopre. Scusami, eh. Eh, no, no, se sono sfortunato allora non poterò mai. Bella, va là. Bella. Eeeh. Ma quant'è ti stai trovando tu, scusami? Si varia to a 16. Caverna! Sto stavando dritto. Caverna, la Buddy! Axol oltre! Ho trovato gli Axol. Mi prendo un Axol oltre, Marci? No. Dai. Ok. Sono un po' cattivo, però. Era un po'... Decisamente un po' cattivo. Un po' troppo, forse. Mi dispiace, loco, scusa. Però mangio, Marci, mangio. Grazie, Buddy, almeno te. Cavolo, ragazzi, non riesco a recuperare la vita, porca miseria. Ci metto un sacco, ci metto. Bravi, bravo. Allora, ragazzi, se loco vince, io e Buddy gli paghiamo un biglietto aereo per New York. Ah. Se questo video raggiunge i 20.000 mi piace e loco vince la sfida, gli pago un biglietto per New York. L'ho detto. Va bene, va bene. Ragazzi, l'ho detto. Però devi vincere, eh. Se non vinci... vincolo qualsiasi cosa, Marci, e ho già vinto. Eh, sì. Con il cheat vinci, però. No, non vinco con il cheat. Vinco e basta. Tu vinci solo con il cheat. E' quello il tuo problema, loco. Lo dici solo perché sei scarso. Eh, sì. Ahia. Non ha mai vinto una gara di scavo. Non ha mai vinto niente. Non ho mai vinto cosa? Non ha mai vinto niente. Vi mette tutti contro di me? Ci credo ti perdo sempre. Eh, sì. La tratta di tutti contro Buddy e non dire niente, però non si può dire niente, eh. È l'ora, eh. Ma quando va? Guarda che adesso litighiamo. Guarda che chiamo il WWF, loco. Chiamo il WWF. Non mi costringere. Non ho capito. Ma dove sono i diamantini? Me ne servono ancora un po'. Basta, gioia di diametista. Ne ho già troppi. Non mi servono. Allora. Uh. Sono dentro la lava. Aiuto. Quanto tempo abbiamo, Marci? Che mi devi incantare. Oh, I don't know. Poi ti devi incantare. Vabbè, adesso con l'altro è arrivato. I don't know why. Diamanti! Ho trovato i diamanti! Po ro bo po 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 po! Quanti sono? Uh, altri diamanti! Uh, mamma mia. Tu quanti ne hai? Quanti ne hai, Buddy Sbadiglione? Ne ho un tot, ne ho. Ma ne ho trovato solo uno, Buddy. Ah, anche... No. Ma che peccato. Non ho trovato solo uno di te? No, è una cosa molto triste. C'era uno solo e mi è pure caduto nella lava. Voglio piangere, comunque. Non te ne dico quanti ne ho. Dai, io ne ho 17. Io ne ho 17. Vabbè, dai. Allora io ne ho 18, vabbè. Vabbè, tanto dobbiamo farci l'armatura, io mi faccio l'armatura, penso. Allura! Allora, come va la situazione qua? 21, no, 21! Mi hai benissimo, ma... Mi hai 21. Io ho ancora zero diamanti, eh. No, raga, è finita! Non ci credo! Non ci credo, dobbiamo salire. Saliamo e sistemiamoci. Devi salirti. Alexa, basta. Siamo pronti? Siamo pronti? Io sì, dov'è Loco? Ciao! Ciao! Guarda, guarda, effetti, Marcelli, se voi ce la presto questa... Fulnedrite, cioè, non ridi? Io vi guardo e vi lascio combattere. No, vabbè, c'è... No, allora, Buddy, tu mi sembri un po' agitato oggi, ok? Va bene, ok, sì, sì. Ma, Buddy, ma perché non ci vogliamo contro Marci? Che mi sta attaccando da dietro? No, Loco, giusto, fa bene, perché hai bruciato l'enchanting. Ma tanto, non lo volevate! Io combatto con te e due, ragazzi, cioè... Fai quello che vuoi, qual'altro sta rigenerando. Vabbè, sì, no, tranquilli, eh, però fate pure quello che volete, ma... No, come sta andando? Loco, perché scappi? Perché non muovete? Come fate? Loco, hai poca vita? Ma, Loco, non mi è colpito neanche una volta. A me è colpito, però, insomma, sono ancora vivo, cioè, nel senso, non mi lamento. Loco, hai il biglietto per New York, Loco! Loco, hai il biglietto per New York? Fai combattermi a Buddy. Fai combattermi a Buddy. Invece no, vai, Loco, guarda come si è a trajard. Comunque, Loco, la trajarda... Buddy, fermati una... Loco, la trajarda va contro... No, ma che peccato. Non me l'aspettavo da te, Loco, sinceramente. Non è stato molto corretto da parte di due. Scusa, dovevo uccidere in qualche modo, ma adesso riesci a rimasto solamente te. No, ma io sto, secondo te. Ha usato la creativa, io l'ho visto. Vai, vieni. Vieni qua, dai, perché scappi? Cosa vuoi fare? Vieni. Col piccone ti voglio uccidere. Col piccone non ce la farei mai. Col piccone, mi sono un po' esagerato, Marci, no? Cioè, va bene che sei forte, però... Siamo un piccone, quello. Perché scappi? Perché scappi? Perché mi fai male? Non te li dai ancora, non puoi morire! Non ci voglio pastitte. Quanta vita hai? Ma quanto vita hai? Loco, il viaggio a New York te lo sogni! Adesso mi dici cosa hai fatto per pensare tutto con la vita. Ciao. Loco, ogni mob che uccidevi, prendevi la sua vita. Ciao a tutti. Grazie a tutti